Prima di iniziare a guardare il video vi ricordo se non lo siete già di iscrivervi al canale attivare la campanella delle notifiche lasciare un like e leggere sempre la descrizione del video benvenuti tutti ragazzi in questo nuovo video oggi affronteremo i teoremi appartenenti alla semantica della logica proposizionale il primo teorema è il teorema della sostituzione che afferma che se ho una formula conseguenza logica di phi1 doppia implicazione phi2 allora è applicabile la sostituzione conseguenza logica di psi che sostituisce a p phi1 implica psi che sostituisce a p phi2 dove p è un atomo questo teorema è una conseguenza del seguente lemma dove la valutazione di phi1 doppia implicazione phi2 è minore o uguale della valutazione della stessa formula con le sostituzioni applicate ne segue dunque che la formula base implica la formula con le sostituzioni applicate facciamo un esempio prendendo la formula phi uguale p1 and p0 implica aperte parentesi tonde p0 implica p3 chiuse parentesi tonde e bisogna sostituire per psi dove not p0 implica p3 sostituisce p0 quindi dove si trova p0 si applica la sostituzione e diventerà p1 and aperte parentesi tonde not p0 implica p3 chiusa parentesi tonde implica aperte parentesi tonde not p0 implica p3 chiusa parentesi tonde implica p3 chiusa parentesi tonde proviamo con un altro esempio avendo la formula phi uguale aperte parentesi tonde p3 doppia implicazione p0 chiusa parentesi tonde or aperta parentesi tonde p2 implica not p0 chiusa parentesi tonde e mantenendo sempre la stessa sostituzione a ogni occorrenza di p0 otteniamo p3 doppia implicazione aperta parentesi tonda not p0 implica p3 chiusa parentesi tonde or aperta parentesi tonda p2 implica not aperta parentesi tonda not p0 implica p3 chiusa parentesi tonde altri teoremi o spesso definite proprietà della logica proposizionale derivano quando si intende la logica proposizionale come algebra booleana di seguito vengono elencate tutte le proprietà che si possono utilizzare che non alterano il significato delle formule iniziali pertanto sono tautologie poiché sempre vere l'associativa con mutativa e distributiva sono semplici e già le avete vista a scuola quando si insegnano per le operazioni il discorso non cambia con i connettivi nell'associativa sappiamo che se una coppia legata dal land è legata a qualcos'altro con land non cambia nulla variare la coppia racchiusa nelle tonde analogamente per loro la commutativa esprime la possibilità di invertire l'ordine delle formule senza variare il risultato finale la distributiva distribuisce la metavariabile esterna a entrambe le metavariabili della coppia interna l'unica novità dovrebbe essere il demorgan il quale esprime che la negazione di una coppia corrisponde alla negazione di entrambe le metavariabili e del connettivo che le univa poi c'è l'ide in potenza dove una metavariabile legata a se stessa risulta se stessa infine la doppia negazione che non fa altro che annullarsi provate a pensare a meno meno 5 i due meno si annullano e diventa 5 queste teoremie proprietà sono comode durante l'esecuzione di esercizi poiché magari vi semplificano l'intera formula in genere potrebbero anche chiedervi di dimostrare che sono tautologie tramite le tabelle di verità la lezione è conclusa se avete qualcosa da chiedere fatelo pure nei commenti e cercherò di rispondervi se non siete già iscritti al canale iscrivetevi seguitemi su telegram e su instagram e noi ci vediamo un prossimo video ciao ragazzi ciao ciao ciao